E' stato inaugurato a Potenza il nuovo parco di Piazza Pisa, 800 metri quadrati, completamente rimodernati, con una nuova area giochi per i bambini, inclusive sicura, di 180 metri quadrati. L'intervento, costato circa 80.000 euro, è stato finanziato con fondi FSC della regione Basilicata e si inserisce all'interno di un progetto più ampio di rigenerazione urbana del capoluogo Lucano. Un'altra area riqualificata, un altro parco inclusivo, accessibile e in sicurezza. Un altro spazio colorato che ridiamo alla cittadinanza, ai nostri bambini e ai nostri anziani che possano trascorrere del tempo in tranquillità. Da poco sono ritornato a vivere qui e questo è un bel passaggio di consegne perché quando ero bambino io venivo a giocare io qui, sono stati rifatti completamente l'aria, giochini nuovi per le nuove generazioni. Stiamo facendo questa, è una cosa bella per i bambini. Grazie. Portavo mio figlio a giocare con i miei ragazzi, c'era un fratticello dove venivano a giocare a parole i bambini. Mi auguro che lo mangano bene e soprattutto che la polizia qua la sera fa qualche gire su lui perché fino adesso ritengo che ci siano stati qualche episodi spiacevoli. Grazie. 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 Grazie.